Ariello che è in provincia di Napoli e con lui lo vedete, c'è Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera ed esponente di punta del Movimento 5 Stelle. Buongiorno a entrambi. Eccoci qua. Io comincerò proprio dalle nozze cosiddette gay, le unioni civili in Irlanda. Intanto qual è la vostra posizione e se siamo maturi anche in Italia per fare un tipo di ragionamento su questo tipo di discorso? Io credo che l'Italia sia matura per fare questo ragionamento, tant'è che la Commissione Giustizia del Senato della Repubblica ha già licenziato un provvedimento sulle unioni civili. La nostra posizione l'abbiamo chiesta a tutte le persone iscritte a questo Movimento circa quattro mesi fa, se non erro. Attraverso il nostro sistema di decisioni abbiamo detto se chiesto ai cittadini si erano d'accordo sulla possibilità che persone dello stesso sesso si unissero civilmente. Di questo stiamo parlando e di nient'altro. E c'è stata una risposta positiva perché crediamo che sia un loro diritto e infatti abbiamo votato positivamente alla proposta di legge fatta in Commissione al Senato. Ora è come sempre, se si vuole accelerare quella proposta che per ora è stata approvata solo dalla Commissione del Senato fa Senato, Commissione, Camera e Camera e diventa legge. Se non si vuole accelerare vi toccherà fare un altro contatore come avete fatto per l'anticorruzione e cominciare a contare i giorni. È solo questo il punto e nient'altro. Lei ci descrive sempre questo Parlamento in una specie di palude dove si affossa qualunque cosa ed è un vicepresidente della Camera. Io non le parlo di una palude. La palude sono i partiti che non vogliono fare le cose. Quando non vogliono fare le cose insabbiano i provvedimenti dicendo che è colpa del Senato, è colpa della Camera. Quando si vuole invece si corre. Qui il Porcellum fu fatto in pochissime settimane, il Lodo Alfano fu fatto in pochissime settimane. Invece centinaia di giorni stiamo aspettando ancora provvedimenti importanti come il credito di cittadinanza per i cittadini in difficoltà. E anche restituire i soldi ai pensionati. Però pare che non ci sia i soldi per tutti quanti. Ma questo è semplicemente un mito. Ogni anno quando si fanno le leggi di stabilità i partiti in questi ultimi dieci anni hanno dovuto scegliere se prendere i soldi dalla tasca dei cittadini o prendere i soldi dai propri privilegi. E hanno fatto sempre la scelta probabilmente più codarda. Togliere per esempio i soldi ai pensionati facendo la legge Fornero, facendo norme come quella dichiarata incostituzionale per quanto riguarda quella che è l'adeguamento delle pensioni. Allora, noi adesso dobbiamo fare una scelta. Per esempio abbiamo 5.000 partecipate in Italia che solo di CDA ci costano 7-8 miliardi. Se noi le accorpiamo e togliamo gli amici degli amici dai CDA troviamo soldi. Se aboliamo i vitalizi troviamo soldi. Se cominciamo a tagliare tutte le spese della pubblica amministrazione inutile troviamo soldi. I soldi ci sono, io li ho visti alla ragioneria dello Stato. Il discorso è la volontà politica. Io credo che i pensionati debbano riavere tutti i soldi a cui hanno diritto e soprattutto il resto dei soldi vadano messi in un reddito di cittadinanza che, ricordiamolo, porta tutte le pensioni minime da 400-500 euro a 780 euro al mese. Ecco, quella parolina magica spending review che pronunciavamo noi giornalisti sempre, fino a qualche tempo fa, adesso non la sentiamo più. Lei dice che si può tagliare ancora moltissimo? La spending review fino ad ora è stata la nomina di un commissario alla spending review che ci costava 200.000 euro in più ogni anno e nient'altro. Perché? Perché arrivava questa persona, magari anche brava, per carità, Cottarelli, Bondi, arrivavano lì, facevano l'elenco delle cose da tagliare. La politica le leggeva e diceva, ma allora ci volete tagliare gli stipendi, allora ci volete tagliare gli appalti, allora ci volete tagliare le cose con cui noi facciamo voti. E quindi si luravano il commissario della spending review. Ma ricordiamoci che ci è costato 200.000 euro all'anno di stipendi il commissario che nominavano per farsi campagna elettorale. Qui è una questione di volontà politica e non c'è Parlamento o Palazzo Ghigi che tenga. Se si vogliono fare le cose come nelle regioni, adesso si va a votare in 7 regioni il 31 maggio, pochissimi cittadini lo sanno ancora per l'importanza dell'appuntamento. 7 regioni si va a votare, noi siamo qui in Campania oggi, io sostengo Valeria Cerambino alla presidenza della regione Campania. Queste regioni sono... Ho fatto lo spot. Ho fatto lo spot, me ne prendo le responsabilità. Allora scusami, però il discorso è, in questo momento noi abbiamo un'occasione, anche nelle regioni, cominciare a tagliare quello che non serve e metterlo in abbassamento delle tasse e incentivi alle famiglie in difficoltà con un reddito di cittadinanza regionale. Parliamo di elezioni amministrative, è la prima volta che il Movimento 5 Stelle si impegna in maniera seria, concreta anche in elezioni amministrative, è un movimento che è cresciuto tantissimo. Intanto che aria dire e che cosa vi aspettate? Allora, io non faccio più pronostici perché ne avevo fatti dopo l'Europe e ne avevo fatti per Farage e gli ho portato sfiga, quindi non voglio portare sfiga a nessuno più. Però voglio dire una cosa importante. Dopo il 2013, il 25%, tutti ci davano per morti, che eravamo stati un fuoco di paglia, se si ricorda. Siamo sopravvissuti all'Europe con un 20% che alcuni partiti oggi nel governo si venderebbero la madre per averlo. Il 20%, adesso abbiamo le regionali dove io sto avendo un buon riscontro. Vedremo come andranno perché sono difficili. Siamo in una regione in cui Demita è tornato all'attacco nelle coalizioni del PD, siamo in una regione in cui ci sono tutti quegli enti inutili in cui molto spesso si promettono posti di lavoro. Ci sono delle dinamiche difficili, però noi ci siamo, non ci siamo sottratti alla competizione per le elezioni, però ci saremo anche dopo le elezioni. Noi non spariamo dopo le elezioni, a differenza di tanti candidati che li vedi due settimane prima e scompaiono il giorno dopo. Un'ultima cosa telegrafica. Il sindacato unico che è stato invocato dal Presidente del Consiglio Renzi? Lui alla fine ha questa tendenza a voler accentrare i poteri sempre in mano ad una sola persona. Io non la vedo una semplificazione, non lo so che cosa volesse dire, io le sue interviste non le vedo. So solo una cosa, che sul sindacato va aperta una riflessione non per il sindacato unico, ma per tutto quello che riguarda i diritti dei lavoratori in questa regione e in questo Paese. Qui siamo nella regione Campania dove c'è il problema dell'Indesit, dove c'è il problema è la lena Capodichino. Quando si fanno degli accordi sindacali e l'azienda firma, i sindacati firmano, chi non lo rispetta deve pagare in questa regione, altrimenti ci ritroviamo sempre nella situazione che si firmano dei bellissimi accordi al Ministero del Lavoro, al Ministero dello Sviluppo Economico e poi gli operai finiscono in mezzo a una strada perché magari la Whirlpool non si attiene agli accordi. Quello che io sto vedendo al di là dei sindacati è proprio la credibilità degli accordi tra azienda e sindacato che si è persa. E questo anche perché molti sindacati in questo Paese si sono comportati in maniera a dir poco stravagante quando facevano gli accordi. Detto questo, sindacato unico o più sindacati, io sto dalla parte delle persone oneste che lavorano nelle aziende e quelle lì se vogliono avere la libertà di unirsi in nuovi sindacati, in nuove associazioni, lo devono fare perché magari sostituiscono quei sindacati che a furia di sedimentare sulle poltrone da sindacalisti hanno dimenticato i problemi degli lavoratori. Grazie. Paolo, ancora una domanda, scusa, non so se Di Maio ci sente. Volevo solo chiedere qual è la situazione all'interno del Movimento 5 Stelle perché nei giorni scorsi si era parlato di uno scontro con Casaleggio e di un Movimento 5 Stelle pronto a cambiare pelle. Io quell'articolo l'ho letto e credo che sia totalmente fantascienza. Io e Gianroberto Casaleggio ci sentiamo periodicamente per tutte le questioni che riguardano i miei compiti, per esempio io mi occupo di lavorare con i dieci sindaci del Movimento 5 Stelle che governano dieci importanti città d'Italia, con i consiglieri regionali. Quell'articolo infatti non ha avuto seguito sulla stampa perché non aveva alcun fondamento. Chiarissimo, grazie a entrambi.